Negli ultimi giorni sulle coste italiane, l'ultimo sbarco a Lampedusa risale a ieri sera, ma cerchiamo di fare il punto di capire qual è la situazione al momento sull'isola con il nostro inviato Matteo Parlato. Buongiorno Matteo. Buongiorno da Lampedusa. La situazione, possiamo dirla, in miglioramento, perché ieri c'è stato uno sbarco di 47 persone da Pakistan e Nigeria, venivano queste persone, però allo stesso tempo sono state spostate da Lampedusa in altri centri in Italia circa 500 persone, quindi il centro di accoglienza che qui a Lampedusa era particolarmente saturo, pur se rimanendo al di sopra le sue possibilità di accoglienza, è stato molto alleggerito, più o meno la metà degli ospiti sono stati spostati da Lampedusa, come dicevo, ad altri centri nel nostro paese. E poi, cosa ci aspetta il futuro? Secondo quello che ci ha detto la Capitaneria di Porto, siccome le condizioni meteo-marine sono cambiate, sono peggiorate, nel senso che siamo passati da un mare piatto e zero vento a un po' di vento e un po' di onde, per cui loro ritengono che questo possa trattenere nei porti libici le imbarcazioni che dovrebbero attraversare, perché chiaramente queste più che imbarcazioni potremmo riferire proprio delle vere e proprie carrette che dopo poche miglia vanno in panne e per cui devono essere soccorse nel canale di Sicilia, nel Mediterraneo, per cui non ci sono le condizioni ideali per affrontare questo tipo di viaggio, per quello che è possibile fare previsioni del genere, perché chiaramente nessuno è in grado di prevedere al 100% quello che veramente succederà, loro si aspettano un fine settimana tranquillo, mentre invece vorrei riprendere la notizia che hai detto tu prima sulla giornata dei rifugiati, perché lunedì è atteso qui il rappresentante europeo dell'UNHCR che dovrebbe venire appunto a visitare, a vedere qual è la situazione qui proprio nel centro e come si sta gestendo questo passaggio di persone, perché noi parliamo di numeri ma non ci dobbiamo mai scordare che si tratta di persone, dal Nord Africa verso l'Europa e se non avete altre domande da Lampedusa vi restituirei la linea. Grazie Matteo, sicuramente più tardi per altri collegamenti.